Anche questo approccio rabbioso, per volerla quasi indirizzare subito e poi gestire nella ripresa, era questo il mood di questa sera? Ma diciamo che era importante approcciare bene la gara, i ragazzi sono stati bravissimi perché la Serie Armitana, le ultime partite, l'ultima Napoli con il Milan con la Juventus era stato un problema per le squadre importanti del nostro livello e quindi sapevamo che dovevamo fare una partita seria, vogliosa e l'abbiamo fatta, l'abbiamo approcciata, avremmo potuto segnare subito. Un po' di sfortuna, bravura del loro portiere però i ragazzi non hanno mollato, non si sono demoralizzati, hanno tenuto altissima la concentrazione per 90 minuti. C'è grande spirito da benegazione in questa squadra, grande voglia da parte di tutti gli interpreti però c'è anche quella serenità, quella spensieratezza, penso ai sorrisi dei giocatori che sono stati sostituiti, di quelli che invece non hanno proprio giocato questa sera. Quando siamo arrivati ormai a più di metà del campionato e questa Inter è a più 10 dalla Juventus, cosa può andare storto in questo finale? Abbiamo fatto un ottimo percorso, abbiamo tenuto un grandissimo ritmo però abbiamo trovato due squadre che stanno facendo altrettanto bene, che sono in linea con i punteggi degli altri anni. E quindi sappiamo che sarà un percorso lunghissimo, dovremo mantenere altissima la concentrazione sempre sapendo che adesso arriveranno le partite tutte ravvicinate, quindi le difficoltà aumenteranno e dovremo essere bravi quando si presenteranno a reagire nel migliore dei modi. Studio. Troppe luci a San Siro, ancora non si vede la seconda stella, accecavano un po' queste luci. Gian Paolo Pazzini. Ciao Simone. Ciao Pazzo. Inutile dirti tutti i complimenti perché comunque il vostro percorso, i vostri numeri, i gol subiti, i clean sheet, tutto eccetera eccetera eccetera, siete primi in tutte le statistiche, quindi è inutile aggiungere altro. Ti volevo chiedere, siccome si era letto, si vociferava che potessi cambiare qualcosa per oggi, poi invece hai cambiato solo gli esterni, ti volevo chiedere perché poi hai deciso di cambiare meno? Perché pensavi che fosse importante oggi o comunque c'è un giorno in più di recupero? Qual è stato il motivo? Se c'è stato. No, diciamo che rispetto a Roma ho cambiato tre giocatori, insomma, quindi mi avrei potuto cambiare molto di più, però avevamo avuto sei giorni per recuperare, i valori erano buoni, i ragazzi avevano fatto le ultime tre sedute molto molto bene, quindi avevo un imbarazzo della scelta poi chiaramente. Noi allenatori dobbiamo scegliere ogni giorno, giornalmente, quindi ho optato per questo, ma non sarebbe stato un problema anche a cambiare qualcuno in più, come ho sempre fatto. Adesso, come ho detto prima, arriveranno tutte le partite ravvicinate, dovremmo essere bravi a essere tutti con la concentrazione giusta. Davide Bernardi? Mister, buonasera. Ciao, buonasera. I numeri dicono che sicuramente è la sua Inter più performante, perché i numeri così non li ha mai avuti, però io vorrei chiedere, qui siamo abbastanza d'accordo su di questo, però vorrei chiederle a lei, è l'Inter più bella da quando c'è Simone Inzaghi? Stiamo giocando molto bene, però è difficile, i riassunti bisogna farli alla fine di ogni stagione, insomma. Il primo anno l'abbiamo fatto in un modo, con obiettivo quarto posto, poi a novembre eravamo diventati ingiocabili, poi il secondo anno eravamo quelli delle 12 sconfitte, abbiamo vinto due trofei, abbiamo fatto la finale di Champions, quindi... I consultivi si fanno alla fine, chiaramente adesso stiamo avendo un ottimo percorso, abbiamo vinto il primo trofeo stagionale, ci siamo qualificati per il mondiale di club, ma non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare, sapendo che sarà un tragitto molto lungo, con delle insidie, lì bisognerà fare la differenza quando arriveranno e dovremo tenere sempre una concentrazione altissima. Grazie mille! Grazie.